Un infermiere ogni 10 pazienti, così ha in Abruzzo il rapporto tra chi assiste e chi è assistito in ambito sanitario a fronte di una normalità che dovrebbe essere di 1 a 6. Nella nostra regione mancano all'appello più di 1700 infermieri, ma la carenza di organico, aggravata dall'emergenza Covid, non è l'unico problema che gli ordini professionali infermieristici delle quattro province si trovano quotidianamente a fronteggiare nelle corsie dei reparti. Remunerazione adeguata, possibilità di carriera, riorganizzazione della rete sanitaria territoriale con le istituzioni dell'infermiere di famiglia e soprattutto nuove assunzioni per alleggerire il carico di lavoro del personale estremato in costante affanno. Sono alcune delle richieste avanzate alla regione dagli ordini provinciali delle professioni infermieristiche che chiedono l'istituzione di un tavolo tecnico, come spiega Irene Rosini, presidente dell'OPI di Pescara. Nella nostra regione ne mancano circa 1760, anche in previsione dell'attuazione del PNRR che è stato licenziato da Draghi. Lei ha detto anche che quello dell'infermiere è un mestiere, una professione poco ambita. Perché? È diventata meno appetibile rispetto alle altre, perché nonostante il percorso accademico e tutte le responsabilità che la professione richiede, non dimentichiamoci che noi abbiamo una responsabilità per colpa grave, una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei pazienti, che di fatto però non trova poi riscontro dal punto di vista sia economico, perché gli stipendi sono veramente risibili, sia anche per come attivarsi anche al di fuori di quelli che sono i contratti di lavoro nella pubblica amministrazione. Perché, ad esempio, i nostri contratti sono legati a un vincolo di esclusività che noi chiediamo assolutamente di rimuovere. Adesso, con il piano vaccinazioni, è stato allentato a quattro ore settimanali per permettere maggiori vaccinazioni. Però noi chiediamo che questo possa essere, diciamo, esteso anche dopo, perché ci sono tantissime RSA che chiedono gli infermieri nei loro centri, ma di fatto non ci sono, perché tra l'altro col Covid si è vista veramente una fuga da tutte le RSA, perché se il rapporto qui in ospedale, diciamo, tra virgolette, in alcune unità operative, di 1 a 10 nell'RSA, devo dire che questo rapporto è molto diverso e anche molto più alto. C'è un fattore su cui voi spingete molto, che è l'infermiere di famiglia, che servirebbe a snellire anche il sovraffollamento, diciamo, degli ospedali e a rendere la sanità più vicina, più territoriale. Nel PNRR, nella missione 6, proprio questo dice, configura il domicilio come il primo luogo di cura del paziente, attuando quella che è la medicina di iniziative non d'attesa, e questo si può fare soltanto attraverso una presa in carico proattiva dei pazienti sul territorio. Però incrementare il territorio vuol dire anche costruire una rete territoriale ad hoc con dei modelli assistenziali ben precisi, alla quale la Regione si deve ispirare. Se la Regione non dovesse dar corso alle vostre richieste, cosa farete? La Regione ci ha assicurato questo tavolo tecnico, dove in realtà lo avevano già stabilito in un protocollo di intesa che noi avevamo firmato un anno fa. Ma non è un movimento soltanto regionale, perché ci saranno azioni forti a livello nazionale per queste richieste da parte della professione che credo siano più che legittime oggi.